Sono in tante sul palco di Sanremo 2021 edizione Pandemia, tante donne, protagoniste ma non troppo. Ha cominciato Matilda De Angelis, elogiatissima co-conduttrice della prima serata a fianco di Amadeus. La prima volta che ho visto il palco mi sono letteralmente messa a piangere, nemmeno di fronte a Nicole Kidman. Non lo dico con retorica, ho provato un'ansia del genere. Quindi è un palco assolutamente magico, è un palco assurdo. Che tira fuori il meglio e il peggio di tutti. Quindi io spero di poter tirare fuori il meglio di me questa sera. Sempre in prima serata l'appello della grande Loredana Berte contro i femminicidi con le sue elegantissime simboliche scarpe rosse. E Alessia Bonari, l'infermiera che durante il primo lockdown diventò simbolo della lotta alla pandemia, con i segni dei dispositivi di protezione sul viso. Il suo compenso sul palco dell'Ariston è stato donato alle cure palliative per i malati terminali. Grande successo nella seconda serata per Elodie, canta, balla e si racconta mettendosi a nudo. È anche la più rituitata del festival. Ed è arrivata anche Laura Pausini, fresca del successo dei Golden Globe con la canzone Io Sì. Ti ringrazio, ama, delle parole che hai usato presentandomi prima. Giovedì sera è stata la volta della top model Vittoria Ceretti. Glamour e bei vestiti come l'occasione richiede, ma anche Monica Guerritore a parlare di teatro e l'attrice Antonella Ferrari a parlare di malattia. Per la quarta serata si attendono la direttrice d'orchestra Beatrice Venezia e la giornalista Barbara Palombelli, che ringrazia Mediaset per il consenso alla partecipazione. Io credo che Sanremo attiri le polemiche come la calamita e quindi l'ho messo nel conto. Sabato non ci sarà Simona Ventura a causa Covid, prevista invece da giornalista Giovanna Botteri. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona, il mio applauso. Proprio Ventura è una delle cinque donne che in 66 edizioni Sanremesi hanno condotto il festival Senza Uomini a fianco, l'ultima Antonella Clerici nel 2010. Nessuna ha ripetuto l'esperienza. Oggi 2021, tante donne sul palco, ma di contorno. Noi donne, ha detto Elodie, in seconda serata dobbiamo fare più squadra. Un buon augurio per l'8 marzo.